In questo primo anno del progetto Ad Maiora abbiamo esplorato nuovi materiali e una serie di tecnologie ausiliarie per perseguire un obiettivo molto ambizioso, ovvero rigenerare per la prima volta la cartilagine di pazienti affetti da osteoartrosi. Il progetto prevede la collaborazione di numerosi partner, ognuno dei quali nel corso di questo anno ha ampliato le proprie conoscenze in diversi ambiti. La stimolazione controllata di cellule e tessuti mediante ultrasuoni, sistemi innovativi per il rilascio nella cartilagine di materiali terapeutici e lo sviluppo di nuovi materiali in grado di contenere al loro interno cellule staminali e nanoparticelle intelligenti. I materiali che stiamo studiando dovranno soddisfare alcuni requisiti, tra cui quello di garantire un'elevata vitalità delle cellule staminali prelevate dal tessuto adiposo del paziente. Tra i vari materiali abbiamo individuato dei polimeri naturali, tra cui il gelangam ed una formulazione innovativa di collagene. I materiali dovranno lavorare in sinergia con delle particelle pezzoelettriche per fare in modo di indirizzare le cellule staminali alla rigenerazione del tessuto cartilaginio del paziente una volta impiantate. Oltre alla parte tecnica del progetto, abbiamo organizzato degli eventi specifici rivolti a chirurghi e a pazienti con l'obiettivo, in prospettiva, di coinvolgerli direttamente nella sperimentazione, in modo da rafforzare sempre di più il collegamento tra ricerca e società. Grazie a tutti!